Tokyo, il parco dei divertimenti, meta preferita dei bimbi della capitale. Treno in miniatura per la delizia dei piccoli giapponesi. E questa è la torre dei paracadutisti. Con poca spesa, grandi e piccoli possono provare l'emozione del salto del vuoto. Il paracadute naturalmente è assicurato ad un saldo cavo di acciaio. Grazie a tutti.